Questo video è rilasciato con licenza Creative Common by 4.0. Che cosa sei libero di fare? Puoi riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato. Puoi remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere e per qualsiasi fine, anche commerciale. Devi però seguire le seguenti condizioni. Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire il link alla licenza come di seguito e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avvalli te o il tuo utilizzo del materiale. Divieto di restrizioni aggiuntive. Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare. Al termine del video troverai le indicazioni necessarie per citare adeguatamente il presente materiale. Ciao a tutti, oggi come parte dell'iniziativa a casa con successione ecologica vi illustrerò un breve tutorial sulle funzioni base di QGIS, un sistema di informazione geografica libero ed open source. Nello specifico, al termine di questo tutorial, sarete in grado di scaricare i dati direttamente dal vostro GPS, il GPS che uso io sul campo di solito è questo qui, e di visualizzarli su una mappa. Questa mappa potrà essere infine scaricata direttamente dal software QGIS come formato PDF o come formato JPEG. Vi ricordo che questo tutorial non richiede alcuna conoscenza pregressa del software, ma vuole essere una prima introduzione per tutti coloro che ad oggi non hanno mai avuto l'opportunità, l'occasione di imparare ad utilizzarlo. Prima di entrare nel vivo di questo tutorial però vi elencherò alcuni dei motivi per cui è importante imparare ad utilizzare QGIS, soprattutto nel momento in cui lo vogliamo confrontare a un software con un rendimento molto simile ma a pagamento, per esempio ArcGIS. Inoltre vi ricordo che nel caso in cui qualche passaggio di questo tutorial non dovesse essere chiaro, mi potete contattare liberamente in qualsiasi momento tramite social media o tramite email. Detto questo vi auguro una buona visione. Come vi ho anticipato quindi vi è una prima domanda a cui rispondere e cioè perché l'utilizzo dei sistemi di georeferenzazione informatica o QGIS sia così importante. Io ho un background a tecnico fonistico quindi vi risponderò soprattutto in chiave biologica. L'utilizzo del QGIS assume un ruolo decisivo soprattutto per noi biologi, ecologi e scienziati impegnati nello studio dell'ecologia del paesaggio, ovvero con la scienza applicata nata come un'interfaccia tra l'ecologia e la geografia. Tra le comune applicazioni degli strumenti QGIS troviamo infatti la creazione di indicatori paesaggistici generalmente organizzati in misure quantitative che ci indicano la qualità degli abitati o comunque di un'area presa in esame. Inoltre nell'ultimo periodo c'è stato un crescente utilizzo di immagini satellitari ad altissima risoluzione. Per esempio c'è la disponibilità di dati sulla percentuale di copertura boschiva, delle NDVI, del cosiddetto indice appunto di attività fotosintetica o della presenza di aree cementificate. Tutti possono essere descritti da dei file raster in cui un pixel equivale a 3, 10 o 20 metri di risoluzione a seconda del sito da cui state scaricando i vostri dati. La cosa più importante è che in passato la maggior parte di questi dati era a pagamento mentre ora la situazione sta cambiando ed è possibile accedere alla maggior parte di essi gratuitamente. Nelle immagini che vedete qui vi ho riportato un esempio dell'indice NDVI, quindi Normalized Difference Vegetation Index o indice di attività fotosintetica in cui le aree caratterizzate da un verde scuro sono quelle in cui l'attività fotosintetica è massima. Di contro le aree in rosso rappresentano un indice di attività fotosintetica molto più ridotto. Alla vostra destra invece avete il cosiddetto Sentinel-1, cioè una missione spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea inserita all'interno del programma Copernicus. Questo programma è costituito da un insieme di due satelliti, quello che vedete qui è appunto un satellite Sentinel-1A ed è stato lanciato il 3 aprile del 2014. Questo satellite ci fornisce immagini di continuo, quindi giorno-notte, e in tutte le condizioni atmosferiche. Quali sono le applicazioni di questi due, anche tre satelliti, mi pare ce ne sia ancora anche un terzo in orbita ora, è il monitoraggio delle zone di mare ghiacciate o comunque dell'ambiente artico e della sorveglianza dell'ambiente marino. Si può poi monitorare i rischi di movimento della superficie terrestre e si può mappare le superfici terrestri, appunto includendo foreste, acqua e suolo. Infine, questi satelliti consentono la mappatura a sostegno dell'aiuto umanitario in situazioni di crisi. Risulta quindi evidente che gli strumenti GIS siano ormai indispensabili soprattutto in biologia della conservazione e se vogliamo entrare più nel vivo, quindi negli aspetti pratici degli strumenti GIS e della loro applicazione, mi aggancio al tema delle specie all'octone o liene trattato nel seminario della scorsa settimana da Emiliano Mori. Nel caso in cui ve lo siate perso vi lascio il link in descrizione. Gli strumenti GIS possono aiutare ad analizzare la potenziale diffusione di specie all'octone sul territorio, quantificando anche dei parametri specifici, quali appunto la rata di espansione. Questi modelli però sono molto complicati e richiedono del personale qualificato per ottenere dei risultati soddisfacenti. Nulla toglie però l'importanza degli strumenti GIS anche in questo settore. Le foto che vedete qui rappresentano due delle specie all'octone più famose in Italia, appunto il gambero killer, il gambero della Louisiana e il visone americano. Un altro esempio pratico e importante di applicazione degli strumenti GIS è quello della connettività degli habitat. Studiare la connettività degli habitat è decisivo soprattutto per comprendere come la struttura di un'area ne influenzi la sua funzione ecologica. Senza nascondere che spesso risulti molto complicato ottenere dei dati empirici che possano in qualche modo rigettare o confermare i modelli studiati per stabilire la connettività di un'area, ci sono alcuni metodi o meglio alcune teorie, per esempio la teoria dei circuiti che vi ho riportato qui, che consentono con più facilità di quantificare la connettività degli habitat, assegnando in questo caso ad ogni elemento dello spazio un valore numerico differente. Questo metodo è ovviamente specie specifico, per farvi un esempio, una determinata zona può essere caratterizzata da un'alta connettività per la cincellegra, ma valori diversi e più bassi possono essere ottenuti nei mammiferi, i quali sono caratterizzati da delle difficoltà maggiori negli spostamenti in quanto più affetti, per esempio, dalla presenza di barriere. La teoria dei circuiti in ecologia viene quindi utilizzata per prevedere delle dinamiche di spostamento di determinati individui attraverso strutture di habitat che possono essere più o meno complesse. In particolare, questo assume importanza nel momento in cui noi vogliamo determinare il grado di isolamento di un habitat o più semplicemente per identificare le strutture degli habitat più importanti. E per darvi un'idea visiva della teoria dei circuiti, eccovi una mappa del Sud America, estrapolata dal sito circuitscape.org, in cui potete vedere come la bellezza di circa 2.900 specie si sposti in relazione al cambiamento climatico. Nello specifico potete vedere che gli spostamenti non sono lineari e perfetti, ma variano a seconda dei fattori di disturbo antropico presenti sul territorio. Personalmente trovo che questa mappa sia una delle più belle per capire a pieno la teoria dei circuiti e se volete saperne di più vi consiglio di visitare il sito circuitscape.org. Il sito stesso presenta una app gratuita che vi consente appunto di misurare la connettività degli habitat. Per chiunque sia interessato penso che sia un tool veramente veramente utile. Quindi in linea generale possiamo in qualche modo confermare che l'applicazione più importante dei sistemi GIS è quella di analizzare il territorio in tutte le sue componenti. Strumenti come QGIS nello specifico consentono di raccogliere, analizzare e infine visualizzare diverse tipologie di dati. Quella che vedete in questa slide ne è un esempio. Si tratta di un'analisi spaziale realizzata tramite il software QGIS che comincerete a conoscere oggi e nello specifico prende il nome di interpolazione spaziale. Le mappe qui raffigurate rappresentano diverse aree situate a Varsavia o comunque poco distanti dai confini della città e ogni punto indica la posizione di una cassetta nido. Nel caso specifico qui volevamo quantificare la presenza antropica a livello di cassetta nido. Abbiamo quindi lavorato ad un protocollo che ci ha consentito di stimare in media le aree più frequentate e le aree meno frequentate dall'uomo. Questi risultati sono stati ulteriormente confermati facendo uso di test di simulazione e di ripetibilità che hanno appunto riportato dei valori ottimali e di conferma dell'efficienza del metodo utilizzato. Se siete interessati ad avere più informazioni potete leggervi l'articolo citato su questa slide e allegato ai file di questo tutorial. E con questa slide spero di avervi convinti circa le potenzialità e l'estrema utilità della conoscenza di un software come QGIS. Passeremo ora a un'altra domanda come vi ho anticipato. Vedremo qual è lo strumento GIS più utile soprattutto per noi biologi. Questa domanda mi viene posta di frequente quando tengo dei corsi QGIS qui a Varsavia e ritengo sia quindi opportuno dare un'occhiata ai pro e ai contro di questi due software presi in esame. Innanzitutto possiamo cominciare dicendo che ArcGIS è un software a pagamento mentre QGIS è gratuito. Un altro vantaggio di QGIS è che è sempre stato multipiattaforma, nel senso che qualsiasi sistema operativo voi utilizzate, che sia questo un Mac, Windows o Linux, QGIS funzionerà. ArcGIS ha cominciato a farlo di recente. Non sono sicura di come questo funzioni ma fino a qualche tempo fa ArcGIS era disponibile solamente su Windows. Un altro vantaggio di QGIS è che vi consente di avere più versioni installate sul vostro PC. Di contro ArcGIS consente di avere un'unica versione installata ed è di solito quella più recente, quella più aggiornata. Ovviamente ArcGIS, essendo un software a pagamento, vanta di una vasta gamma di strumenti per effettuare delle analisi spaziali o comunque per visualizzare i vostri dati. Non possiamo dire lo stesso per QGIS, il quale appunto dispone di meno strumenti per l'analisi dei dati, ma molti di questi strumenti sono in continuo aggiornamento. Un altro punto positivo per QGIS è che è in grado di operare con tutti i tipi di formati utilizzati nell'analisi spaziali. Non possiamo dire lo stesso per ArcGIS, in quanto opera con un range molto limitato di formati. E quindi, in luce di tutte queste considerazioni, quale strumento QGIS ci conviene utilizzare? Beh, io vi do una risposta delle più noiose che vi possiate aspettare e la risposta è proprio questa. Cioè, dipende. Dipende da cosa? Da molte cose in realtà. Intanto da quello che voi dovete fare. Io vi posso dare dei consigli. I consigli riguardanti la scelta del software preferibile da utilizzare dipendono dalle vostre possibilità economiche e personali o comunque del gruppo in cui voi state lavorando. È possibile che qualcuno di voi operi in una compagnia o comunque in un'università in cui la licenza di ArcGIS è comunque disponibile e vi consente di effettuare tutte queste analisi con dei grafici molto belli e delle analisi molto rapide e quindi potete permettervi questo tipo di software. Un piccolo problema che potrebbe insorgere nel caso in cui voi decidiate di utilizzare ArcGIS e appunto la ripetibilità. Mi spiego meglio. Se voi effettuate delle analisi spaziali utilizzando software ArcGIS questo software verrà aggiornato ogni anno. Ora non so esattamente la cadenza ma so per certo che ogni anno quando rinnovate la licenza vi sono degli aggiornamenti. Potrebbe essere difficile ripetere alcune analisi spaziali che avete effettuato tramite il software magari in anni precedenti. Questo tipo di problema invece con QGIS non lo avete perché come vi ho detto all'inizio potete installare delle versioni, molte versioni in contemporanea sul vostro computer o comunque potete andare a pescare le versioni che avete utilizzato in precedenza dal sito e ripetere le analisi spaziali che avete effettuato esattamente con le stesse versioni utilizzate in precedenza. Un altro consiglio che vi do è quello di pensare quindi nel lungo termine. Può essere che utilizzate ArcGIS per un periodo e che poi questa possibilità non possa più essere disponibile per voi. Quindi finite di lavorare in un istituto, finite un contratto presso un'università in cui il software è disponibile e beh in questo caso vi trovate a piedi. Quindi quello che faccio io per evitare questo tipo di evenienza è appunto approfondire la mia conoscenza del software QGIS. Prima di passare alla parte pratica di questo corso, però voglio lasciarvi con una piccola ed irrinunciabile parentesi. Ci sono molte preferenze per i software open source, quindi una volta veniva consigliato di saper utilizzare ArcGIS mentre ora questi tipi di richieste stanno cambiando e c'è una grandissima richiesta appunto della conoscenza del software QGIS. Restando su questa linea quindi cerco di convincervi anche ad imparare ad utilizzare sempre dei software open source e uno dei software open source per eccellenza che io adoro dopo QGIS è R. E ne approfitto per rimandarvi al seminario ottenuto da Riccardo Cabrini come primo seminario di questa iniziativa che assolutamente non dovete perdere. Vi lascio il link in descrizione e passiamo ora alla parte pratica di questo corso. Passando ora alla parte pratica di questo corso, prima di scaricare il software di QGIS voglio farvi vedere un'altra applicazione sempre gratuita che prende il nome di DNR GPS Minesota. Questo tipo di applicazione è ottimale per tutti coloro che utilizzano GPS Garmin. Che cosa vi consente di fare? Vi consente di collegare il vostro GPS direttamente al computer e di copiare e incollare appunto tramite questa applicazione tutti i dati su un file Excel. Successivamente sarà necessario trasformare i vostri file Excel in salvarli come file CSV e alla fine caricarli su QGIS. È tutto molto più rapido utilizzando questa applicazione quindi se avete dei Garmin GPS ve la consiglio. Per scaricarla dovete collegarvi al sito quindi questo. Una volta cliccato sul sito, va bene, dite al software che non siete dei robot e vi recate sulla parte più, la parte finale della pagina. Prima di Functionality Highlights avete questo file zip, cliccate e una volta cliccato avrete il vostro file DNR GPS Minesota. Una volta che il file sarà scaricato vi farò vedere come funziona. Bene, ora il file è stato scaricato completamente, quindi cliccate e lo aprite e la prima cosa che dovete vedere è appunto l'applicazione DNR GPS. Cliccate su questa icona, estraete i file, io lo lascerò così come è stato di default. Bene, una volta estratto, nei download, cliccate sulla cartella DNR GPS e la vostra applicazione la potrete utilizzare cliccando su questa icona. Una volta cliccato su questa icona vedrete che l'applicazione è ora disponibile e potete utilizzarla. Il prossimo passaggio consiste nel collegare il vostro GPS al computer tramite un cavo USB e ovviamente dovete accenderlo. Nel mio caso per esempio ora io riesco a visualizzare il mio GPS esattamente in questa posizione. Nel momento in cui voi non riusciate a vedere ancora questa informazione potete cliccare su GPS una volta che l'avete collegato e acceso ovviamente e cliccate su Find GPS. Una volta cliccato su Find GPS dovreste essere in grado anche voi di vedere questa informazione. Il passaggio successivo sarà quello di scaricare i waypoint direttamente dal GPS alla vostra applicazione DNR. Quindi cliccate su Waypoint, Download e nel mio caso ho una serie di file tutti scaricati, registrati con questo GPS dal 2016. Ne prenderò uno a caso solo per farvi vedere come funziona. Clicco OK e come potete vedere ora il download è completo e avete tutti i vostri punti. Il passaggio successivo sarà quello di copiare e incollare i vostri punti, nello specifico le coordinate dei vostri punti, quindi latitudine e longitudine e anche l'ID ovviamente del vostro punto. Per farlo potete selezionare l'intera tabella automaticamente cliccando la cella in alto a sinistra oppure potete semplicemente selezionare le celle che vi interessano. Nel caso specifico le selezionerò tutte e le copierò direttamente su Excel. Clicco sull'icona Copy from Selected Cells or Rows e vado ad aprire un file Excel. Qui non dovrete fare altro che cliccare col tasto destro e incollare i dati che avete appena copiato dall'applicazione. Come potete vedere abbiamo le nostre colonne che ci interessano. Ora farò un po' di ordine nel senso che eliminerò le colonne che non mi servono. Ok, ok, allora le eliminiamo tutte così facciamo un po' giusto per fare un po' di ordine. Terrò solamente la latitudine e la longitudine. Ok, bene, allora abbiamo per ogni punto una latitudine, una longitudine e ovviamente l'ID del punto. Mi raccomando, il file che voi dovrete caricare su QGIS dovrà essere ordinato in questo modo. Ora, il passaggio successivo prima di caricare il file su QGIS sarà quello di salvarlo come formato CSV. Ve lo faccio vedere. Allora, file, salva con nome. Lo chiameremo, lo salveremo su desktop e lo chiameremo test QGIS. Ovviamente nella voce salva come dovete selezionare questo CSV delimitato dal separatore di elenco. L'ho cliccato e una volta che l'avete salvato sarete pronti per caricarlo direttamente sul vostro, sul software QGIS. Ora però dovremo vedere come scaricare il software prima di procedere con questo passaggio. Per scaricare il programma, il software QGIS dovrete digitare appunto QGIS su Google e cliccare il primo link che vi compare sulla schermata. Una volta fatto, sarete entrati ufficialmente nel sito di QGIS e come potete vedere avete un'informazione sull'ultima versione disponibile. Ora, quello che vogliamo fare è scaricarlo. Andiamo su scarica adesso e come potete vedere e come vi ho anticipato nell'intro di questo tutorial, avete un sacco di versioni disponibili. Quello che vi consiglio di fare è di scaricare esattamente quella che sto scaricando pure io, così che possiate seguire passaggi successivi senza alcun problema. La versione che decido di scaricare è questa, repository della versione a lungo supporto più stabile. Io utilizzo Windows 10 con 64 bit, quindi scaricherò questa. Ovviamente se voi utilizzate un Mac piuttosto che un Linux, piuttosto che altre cose, dovrete adattarvi a quello che avete. Quindi io cliccherò qui. Al momento non ho nessuna versione di QGIS installata proprio perché voglio farvi vedere tutti i passaggi. Bene, ora sta scaricando il software, aspetteremo che finisca. Una volta finito, proseguiremo col tutorial. Ora che il download è completo, clicchiamo sul file appena scaricato e andiamo su apri. Ovviamente ci vorrà un po' di tempo. Ok. La versione che utilizzeremo sarà questa. Clicchiamo su sì. Clicchiamo su avanti. Accettiamo i termini di utilizzo. Sempre su avanti. Ok, qui abbiamo una serie di mappe. Sono dei dati presi come un esempio. Non li seleziono perché voglio velocizzare il processo di download del software. Quindi vado avanti con l'installazione. Alla fine dell'estrazione vedremo come si procede. Alla fine dell'estrazione dovreste visualizzare questa finestra e cliccare su fine. Fatto questo, ora dovreste avere QGIS sul vostro computer. Quindi lo andiamo a cercare. QGIS desktop 3.10.4 è la nostra app. La clicchiamo. Vediamo un po'. Qui dice di iniziare. Ok. Clicchiamo su iniziamo. E aspettiamo un po'. Ci potrebbe volere del tempo. Ottimo. La prima schermata che vedete è la schermata di QGIS. Allarghiamo la finestra così che possiate vedere un po' le principali componenti. Allora abbiamo la componente principale, questa davanti a voi, è l'area di mappa. Poi c'è la barra dei menu. Ci sono delle barre laterali. Questa per esempio è la barra dei layer. Questi sono gli strumenti. Vedremo un pochettino passo passo come si fa a plottare i vostri punti sulla mappa e come si fa poi a salvare una mappa. La prima cosa che dovete fare è creare un nuovo progetto. Quindi cliccate su questa finestra e la cosa più importante a questo punto è quella di cambiare la proiezione del vostro progetto. La proiezione del progetto che utilizzerete è molto importante e deve essere scelta sulla base dei dati che voi volete appunto rappresentare nella vostra mappa. O comunque dovete tener conto dell'area geografica in cui vi trovate. Nel mio caso io dovrò selezionare una proiezione che utilizzo sempre qui a Varsavia e nello specifico questa è la numero 33N. Vediamo un po' se la trovo. Dovrebbe essere questa. 3, 2, 6, 3, 3. Sì, questa. E vi fa vedere qual è il sistema di riferimento. Il sistema di riferimento quindi è molto importante e dovete ricordarvi che oltre al progetto anche la mappa e tutti i layers che voi vorrete raffigurare sulla mappa dovranno avere esattamente la stessa proiezione. Mi raccomando, questo è un punto importante. Nel caso in cui voi ve ne dimentichiate è possibile anche che le mappe che strapolerete da QG si raffigureranno qualcosa di inesatto. Quindi andiamo su applica e ok. Bene, una volta cambiata la proiezione a seconda del vostro sistema di riferimento, non vi preoccupate perché nel caso in cui abbiate dei punti raccolti in Italia, ho allegato ai file di questo tutorial anche un link che vi può consigliare al meglio qual è il migliore sistema di riferimento nel vostro caso. Lo troverete nei link in descrizione o comunque come allegato a questi documenti. Ora, la prima cosa che voglio fare è farvi vedere una cosa che si chiama Plugins. Se qualcuno di voi ha avuto a che fare con R, sicuramente sa che R funziona tramite delle librerie o packages. Se vogliamo trovare un'alternativa appunto a QGIS, io direi che per QGIS i plugins sono un po' le librerie di R, quindi sono degli strumenti all'interno del software gratuiti che vi consentono di fare diverse azioni. Ora, ci servirà un plugin per avere una mappa di riferimento. Quindi andiamo su Plugins, Gestisci ed Installa, e andiamo a cercare il plugin che si chiama Quick Map Services. Quindi dovremmo trovarlo senza troppe difficoltà, eccolo qui, e andiamo su Installa Plugin. Questo vi servirà ad avere la mappa di riferimento. Poi andiamo su Chiudi, e possiamo andare direttamente ora nella barra in alto e cliccare su Web. Come potete vedere avete la funzione Quick Map Services. Ora, la cosa che potete fare è andare su OSM e avere già una prima visione di una mappa. Ma prima di fare questo voglio darvi un mini consiglio per avere una scelta un po' più vasta di quella che vedete qui. Quindi scendete fino a Settings e vi spostate sulla voce More Services e cliccate su Get Contributed Pack. In questo modo avrete una vasta gamma di mappe, che vi farò vedere immediatamente, sempre sotto la voce Web. Quindi andate su Web, Quick Map Services, e come potete vedere il menu si è esteso di parecchio. Ora, non tutti questi file saranno attivi, ce ne saranno alcuni con dei bug, che insomma potrete vedere uno ad uno. E quelli più interessanti sicuramente sono quelli di Google, e un altro che vi consiglio è questo, OSM. Ora vi faccio vedere la mappa di Google, come funziona. Andate su per esempio Google Satellite, e in questo modo avrete appunto la vostra mappa. Ora, che cosa vogliamo fare? Vogliamo provare, innanzitutto vogliamo controllare come è stata cambiata la nostra proiezione. Ovviamente aggiungendo la mappa la nostra proiezione è cambiata. Quindi dovrete riportarla a quella di partenza. Applicate e andate su OK. Ok. Ovviamente la posizione della mappa cambierà. Esatto. Ora, il prossimo passaggio consiste nel caricare i punti che abbiamo salvato come file CSV all'inizio. Per farlo dovrete andare sulla voce Layer, Aggiungi Layer, e selezionare, in questo caso, Aggiungi Layer Testo Delimitato. Se vi ricordate, il file che avevamo salvato da un file Excel a file CSV si chiamava TestQGIS ed è qui. Andiamo su Apri. E ora dovete fare molta attenzione ai passaggi seguenti. Innanzitutto dovete vedere, è possibile che vediate le vostre coordinate in un modo un pochettino strano. Non in questo modo. Questo è corretto, quindi deve essere raffigurato come una tabella in cui avete la prima colonna con l'ID, la seconda con la latitudine e la terza con la longitudine. Nel caso in cui questo non sia raffigurato in modo corretto, dovete controllare che il formato del file sia... vi stia indicando per esempio i delimitatori personalizzati. Nel mio caso il punto e la virgola erano i delimitatori che mi stabilivano le colonne. Infatti se io deseleziono punto e virgola, come potete vedere, quello che visualizzo non è più corretto. Quindi se voi avete una cosa di questo tipo, dovete andare su formato file, cliccare delimitatori personalizzati e andare su punto e virgola. Poi procedendo avete un'altra parte molto importante che è la definizione della geometria. Qui noi abbiamo coordinate di un punto, quindi questo è corretto. Nel campo X avremo la longitudine e nel campo Y la latitudine. Un'altra cosa che voglio farvi vedere è l'SR della geometria. In questo caso avete EPSG4326. In realtà lo potreste cambiare, ma non ve lo consiglio a questo punto. Lasciatelo come lo avete già settato e non toccate nulla. Una volta verificato che tutto sia a posto e che le vostre coordinate siano rappresentate in maniera corretta, potete andare su aggiungi. E poi potete chiudere questa finestra. Come potete vedere, i vostri punti ora sono sulla mappa. Ora, vabbè, volete fare uno zoom per vedere esattamente dove sono questi punti. Quindi dovete andare col vostro cursore su test QGIS, cliccare col tasto destro e trovare la funzione zoom sul layer. Cliccate su zoom sul layer e come potete vedere i punti ora sono più visibili. Questi sono dei punti che rappresentano delle mangiatoie che stavo registrando. Adesso non ricordo la data che ho scaricato, però sono dei punti di foraggiamento delle cince, per questo li trovate in questo modo. E questo è un distretto di Varsavia, il distretto di Murano. E come potete vedere, ora avete i vostri punti correttamente disposti sulla mappa. Tutto molto bello, però magari volete cambiare qualche cosa di questi punti. Per esempio, volete cambiare il colore, la dimensione, la forma? Volete aggiungere l'informazione sull'ID? Bene, ora vedremo tutti questi passaggi uno per uno. Quindi la prima cosa che dovete fare è andare sul layer test QGIS e cliccare col tasto destro. Ovviamente, prima di modificare qualsiasi cosa, vi consiglio di cambiare la proiezione dei vostri punti. Quindi, come vi ho anticipato in precedenza, è importante che la proiezione dei punti che avete qui sia salvata esattamente come proiezione del vostro progetto. Per farlo, dovete cliccare col destro sul layer, quindi sul punto, e andare su salva come. Per salvare, dovete andare su esporta, salva elementi come. E qui dovete cliccare e salvare un file, shape file. Quindi, esri shape file sarà quello che vi serve e cliccare, per esempio, punti finale. Così sappiamo che questi sono i punti che vogliamo sulla nostra mappa. Ora è arrivato il momento di cambiare la proiezione. Quindi, andate sulla, espandete la barra e cliccate la proiezione che avete utilizzato per il progetto. Fatto questo, sarà anche importante decidere dove volete salvare questi punti trasformati. Quello che vi consiglio di fare è di creare una cartella e di chiamarla shape file. Questa cartella verrà utilizzata per salvare i vostri punti trasformati. Quindi, cliccate sulla cartella, la cercate, dovrei averla, ok, eccola qui, shape files, e andate su apri e salva. Una volta che avete fatto tutti questi passaggi, potete cliccare su ok. Come potete vedere, ora avete un altro layer di punti che si chiama punti fin, il titolo che gli avete, il nome che gli avete attribuito voi, e potete eliminare il vecchio file. Quindi andate col tasto destro e andate a cliccare su rimuovi layer. Bene, ora avete i punti correttamente trasformati e quello che vogliamo fare è dargli un po' una, insomma, cambiarli. Possiamo cambiare il colore, metterci l'id e fare tutte queste cose. Poi li salveremo sulla mappa e vedremo tutto. Allora, per prima cosa, cliccate col destro su punti fin e andate su proprietà. Come potete vedere, avete una serie di informazioni qui alla vostra sinistra. La prima cosa sono le informazioni del vostro punto, quindi avete anche la proiezione, la cosa più importante, l'estensione, l'unità, il conteggio e così via. Poi avete la sorgente dei dati e qui invece, per esempio, avete la simbologia. Ora, mettiamo che vogliamo un po' giocare con questi simboli, cliccate su un simbolo a caso, volete vederlo, andate su applica e potete vederlo in tempo reale, come è cambiato, se vi piace, se non vi piace e così via. Quindi, ora vi faccio, insomma, dovete un pochettino provare tutte queste funzioni, però per dire potete ingrandire i simboli e potete vedere tutto prima di salvare, oppure potete sceglierne degli altri. Ora, io sceglierò i punti, vediamo un po' perché c'è Google Earth, possiamo usare, vabbè, questi, giusto per, tanto per dimostrazione. Li faccio un po' più piccolini, applica e ora però voglio vedere l'ID dei miei punti, quindi vado su etichette e come potete vedere, by default, è stato messo, è stato indicato come non mostrare le etichette. Voi cliccate, stendete e cliccate su etichette singole. La prima cosa che dovete fare è decidere che cosa volete mostrare e qui è già settato per l'ID dei punti, altrimenti avevate latitudine e longitudine. Quindi resta l'ID. Qui potete cambiare tutti i settings del testo, per esempio lo stile, il carattere, la dimensione, il colore, l'opacità, avete una serie di cose. Poi c'è anche la formattazione, quindi come potete vedere ci sono un sacco di funzioni che potete provare, ora ne proverò giusto qualcuna per farvi vedere come funziona. Sempre giocando con applica potete cominciare a vedere quello che state modificando. Sicuramente così non si vede nulla, vediamo se così si vede un po' meglio. Ok, ora si vedono un po' meglio e magari non vi piace che l'etichetta sia troppo sul punto, quindi potete andare su posizionamento e aumentare la distanza intorno al punto, per esempio in questo modo. e cliccando su applica potete vedere come state modificando la vostra mappa. Bene, potete farlo anche come offset dal punto, per esempio così, oppure intorno, lasciamolo così. Bene, come potete vedere queste sono alcune delle cose che potete fare, ovviamente ce ne sono parecchie, ci vorrebbero ore di tutorial, è solo per farvi, per darvi un'idea della, delle potenzialità di questo software. Ora, il prossimo passaggio sarà quello di salvare questi punti e questa mappa come file jpeg o pdf e per farlo ci serve la funzione composer. Ovviamente alla mappa che volete stampare potete aggiungere altri elementi, per esempio l'orientamento della mappa, la scala e così via. La funzione composer la trovate andando su questa icona, crea layout di stampa, titolo, possiamo dare un titolo, test1 e cliccate su ok. Bene, allora adesso il primo passaggio che dovete fare è aggiungere la mappa che vedete sulla vostra schermata principale di QGIS. Per farlo dovete cliccare su questa icona, tenere premuto il tasto sinistro del mouse e disegnare la zona in cui volete appunto vedere la vostra mappa. Eccola. Ora mettiamo che qualche punto non sia troppo visibile e voi volete appunto vederli tutti. Ovviamente potete spostare l'interno di questa cornice che avete creato cliccando su questa icona con delle frecce interne, in questo modo. Quindi potete spostare la mappa a vostro gradimento. Oppure potete zoomarla con il mouse, con la rotellina del mouse, oppure allontanarla, insomma come preferite. Ci sono tantissime funzioni che potete utilizzare, quindi avete solo l'imbarazzo della scelta. Bene, ora che avete scelto più o meno come volete posizionare la vostra mappa, io ho deciso di salvarla così, voglio aggiungere una scala. Per aggiungere la scala, vedete che c'è un'icona apposita qui sulla sinistra, aggiungi una nuova barra di scala layout. Potete disegnarla nello stesso modo in cui avete disegnato la mappa, quindi tenete premuto il tasto sinistro del mouse e vedete che in automatico vi dà una barra di 150 metri. Ora, mettiamo che voi vogliate cambiare la scala, le unità di misura e così via, per farlo dovete guardare alla vostra destra. Come potete vedere avete il layout della scala perché ora avete selezionato la scala. Se cliccate sulla mappa, il layout ovviamente vale per la mappa. Tornando sulla scala, mettiamo che vogliate aggiungere delle barre a destra o a sinistra, o comunque modificare le unità di misura. Per farlo dovete andare su proprietà dell'oggetto e qui avete l'unità di misura, quindi unità barra di scala, la lasciamo in metri. E mettiamo che invece vogliamo cambiare il numero di segmenti. Da sinistra a zero, quindi qui ci sono zero elementi sulla sinistra, come potete vedere, li aumentiamo. Come vedete ora ce ne sono due. E magari a destra ne mettiamo qualcun altro in più e così via. Come potete vedere ora avete lo zero fino a 75 e poi avete dallo zero ai 300 metri. Ovviamente queste non sono le uniche cose, non sono le uniche cose che potete cambiare, potete anche modificare il colore della vostra scala, il carattere delle vostre, insomma della scala stessa, farlo un po' più grande. Potete cambiare l'altezza della scala e così via. Qui si tratta solamente di provare quello che avete a disposizione. Per esempio questo riquadro doppio, come potete vedere ci sono molteplici funzioni. Nel mio caso per esempio non mi piace il fatto che la mappa sia poco leggibile o un po' piccola. Quindi vabbè, allora proviamo a cambiare prima il colore di riempimento. Questo è il colore di riempimento della scala per esempio. Bene, come potete vedere ha cambiato il colore della scala. Ora nel caso in cui vogliate per esempio cambiare il carattere, qui avete lo stile. Un po' simile anche ai layer in precedenza. E potete cambiare il colore o comunque la dimensione. Ecco questo era quello che stavo cercando. Facciamo un po' più grandicello. E così via. Quando avete finito con le vostre modifiche della scala, magari volete aggiungere una figura. E la figura che riporti magari l'orientamento della vostra mappa. In alcuni casi aggiungere una figura può essere utile nel momento in cui voi vogliate per esempio sovrapporre due mappe e una che vi indica la localizzazione dell'area e un'altra che vi fa per esempio uno zoom. Quindi come si fa ad aggiungere un'immagine JPEG su questa mappa? Andate su questa icona. Quest'icona si chiama aggiungi una nuova immagine al layout. La cliccate e poi potete direttamente selezionare l'area in cui voi volete rappresentare la vostra, riportare la vostra immagine. Io per esempio la aggiungo qui. Dopodiché dovrete spostarvi sulla destra del vostro, insomma, del vostro file, sempre tenuta, tenendo l'immagine selezionata, e dovete verificare e cercare di caricare l'immagine. Per farlo dovete andare su sorgente dell'immagine e nel mio caso io ho salvato l'immagine di una freccia che mi indica l'orientamento della mappa e si chiama North Arrow, questa, e dovrebbe essere, dovrebbe comparirvi in automatico, infatti eccola. Potete ancora spostarla se la posizione non vi piace. Ora, ammetto, il colore non è il massimo, però è solo per farvi vedere la funzionalità di questo software. E mettiamo che la potete salvare qui. Sì, la mappa è orrenda, lo so, quindi è soltanto... Ok. Ovviamente il colore è pessimo, però quello che potete fare ora e che manca è dare un titolo alla vostra mappa. E per farlo vi consiglio questa icona, aggiungi una nuova etichetta layout. La cliccate e, come avete fatto in tutti i passaggi precedenti, disegnate dove volete mettere il vostro titolo o comunque un testo. Sempre, se volete fare delle modifiche al testo e allo stile del testo, dovete guardare alla destra del vostro schermo. In questo caso, possiamo modificare il testo in questo spazio e scrivere, per esempio, titolo, cosicché... E lo vedete in anteprima sul vostro composer. Come potete vedere, potete modificare il vostro, insomma, il titolo. Bene. Una volta che avete fatto tutti questi passaggi, tutte le modifiche alla vostra mappa, potete cercare di, per esempio, salvarla come file jpeg o pdf. Per farlo, potete andare qui in alto, come vedete c'è esporta come immagine, quindi jpeg esporta come file svg oppure come file pdf. Noi proveremo solamente una di queste tre funzioni. Possiamo provare esporta come file pdf e sta chiedendo... Vabbè, qui non dovete fare altro che selezionare, non mostrare più questo messaggio e chiudere. Ora vi chiede dove volete salvare la vostra mappa. Il nome che avevamo dato era test1, lo lasciamo così, e clicchiamo su salva, la salverà sul desktop. Bene, salva. Bene, ora questo mi sta indicando che l'attività è stata completata con successo. andiamo a cercarla sul nostro desktop. Infatti la mappa è stata salvata sul desktop come test1 e questa è la mappa che abbiamo appena creato con QGIS. Ora, la mappa che ho deciso di preparare per questo tutorial è molto semplice. Vi ripeto che il tutorial è soprattutto per le persone che non hanno mai utilizzato QGIS, ma al tempo stesso credo di avervi fatto capire quali sono le enormi funzionalità e potenzialità di questo software. Il prossimo passaggio che voglio fare e che sicuramente può tornare utile per tutti coloro che non possono utilizzare DNR Minnesota è appunto come caricare direttamente i file da QGIS, scusate, dal GPS su QGIS senza l'utilizzo di questa applicazione intermedia che vi ho fatto vedere oggi. e ovviamente, vabbè, mi sono dimenticata di darvi un'informazione molto importante che è il fatto che appunto l'applicazione DNR GPS Minnesota è ottima ma funziona solamente nel caso in cui voi abbiate Windows e nel caso in cui voi utilizzate GPS Garmin. In tutti gli altri casi dovrete caricare direttamente i file sul software QGIS. Ora vi farò vedere come fare sempre col mio Garmin, non ho altri GPS ma nel caso in cui voi abbiate degli altri e abbiate dei problemi nel caricarli sul software QGIS sentitevi liberi di contattarmi e vi posso dare qualche consiglio. Ora, come caricare direttamente dal vostro GPS a una mappa su QGIS i vostri punti? Dovete andare, innanzitutto dovete collegare GPS al vostro computer e poi andare nelle risorse del computer e cercarlo. Nel mio caso io ho collegato il mio Garmin vado sulla cartella principale sui file formato .jpx e seleziono qualsiasi formato potrebbe, .jpx dovrebbe andar bene. prendo questi del 6 aprile non ho idea di che cosa sia però è soltanto per farvi vedere ora vi si apre questa finestra vi indica che solamente ci sono tre waypoints nel resto non c'è nulla selezionate il file che vi interessa e cliccate ok ora potete zoomare sempre col tasto destro del mouse per visualizzare dove si trovano questi tre punti quindi andate su zoom sul layer e come potete vedere questi punti si trovano in una foresta. Ovviamente se vi ricordate cosa vi ho detto all'inizio qui prima di salvare una mappa la cosa importante è creare un altro shape file con la funzione salva come e cambiare la proiezione di questi punti in quanto non è la proiezione corretta al momento e utilizzate sempre la proiezione che avete nel vostro progetto. Detto questo il mio tutorial si conclude qui spero che sia stato in qualche modo utile è stata per me la prima volta in cui l'ho organizzato online in questo modo e credo che sia anche un'ottima scusa per approfittare di questo tempo che dobbiamo spendere a casa per imparare qualcosa di nuovo e di utile nel lungo termine. Voglio approfittare di questi ultimi secondi per ringraziare ancora l'associazione Successione Ecologica per avermi dato l'opportunità di contribuire a questa bellissima iniziativa e voglio approfittare anche per invitare tutti voi a seguire i prossimi seminari di questa iniziativa. Cerchiamo di utilizzare il tempo speso a casa in maniera costruttiva per il futuro nostro e per il futuro degli altri. Un carissimo saluto da Varsavia e in bocca al lupo con l'utilizzo del software.